Il premio Inventiamo una banconota ideato dalla Banca d'Italia e giunto alla sua decima edizione ha coinvolto anche quest'anno le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado in un progetto interdisciplinare integrato nella programmazione didattica consistente nella realizzazione di un bozzetto di una banconota immaginaria. Nella filiale di Potenza sono stati mostrati i due bozzetti che hanno superato la prima fase del concorso quelli realizzati dai ragazzi della scuola Luigi Lavissa di Potenza e dalla Giovanni Paolo II di Maratea che avranno diritto ad un premio di 2000 euro da destinare ad attività didattiche. Mi permetto di dire un orgoglio lucano. La Basilicata è riuscita ad esprimere su nove scuole vincitrici ben due presenze e parlo dell'istituto comprensivo Luigi Lavissa di Potenza, in particolare della classe terza B e della classe quinta B dell'istituto statale di istruzione superiore Giovanni Paolo II Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Maratea. Entrambe hanno superato la selezione a livello macro regionale in un aggregato che ci vede insieme a Campania e Puglia, quindi regioni ben più popolose e sono davvero orgoglioso del fatto che ben due istituti della nostra piccola regione ma con tante eccellenze sono riusciti a qualificarsi per le selezioni nazionali. A loro va un premio, a ciascuno dei due istituti andrà un premio di 2000 euro da destinare chiaramente alle attività didattiche.